ciao a tutti ragazzi e bentornati su hard rock crypto da rick quest'oggi vediamo assieme come gestire mille euro in cripto possono essere i vostri primi mille euro che decidete voi di metterli sulle cripto valute oppure magari ricevete un regalo e dunque avete mille euro da spendere assolutamente in cripto valute vediamo un po come secondo noi dovreste investire questi soldi vi diciamo già che diamo per scontato andremo sul classico quindi questo è un video dedicato soprattutto a coloro che sono nuovi o meglio ancora che non amano particolarmente rischi quindi andremo tra virgolette appunto sul classico allora il primo 25 per cento quindi 250 euro assolutamente neanche da dire su di lui ovviamente un quarto del portafogli così proprio decisi al cento per cento naturalmente bisogna dedicarlo al re delle cripto valute senza di lui non ci sarebbe nulla è quello che probabilmente è destinato a andare più alto di tutti e quello che tutti noi ci aspettiamo non deluderà assolutamente e toccherà cifre allucinanti dunque per un investimento a lungo termine naturalmente bitcoin è il numero uno ovviamente questo ragazzi non è un video per offrire consigli finanziari giusto per prendere spunto anche perché se volete un consulente finanziario assolutamente qui su hardware cripto non lo potete trovare attualmente quindi 25 per cento su bitcoin tutta la vita proprio a mani basse senza neanche pensarci un secondo seconda cripto valuta che vogliamo consigliare 20 per cento del proprio portafogli quindi 200 euro è ethereum assolutamente sì perché la regina delle cripto ha un ecosistema pazzesco dunque poco da dire può star simpatica può star antipatica però è sicuramente una di quelle che è destinata ad esplodere in futuro lo ha già fatto il buon ethereum ha superato i 4800 dollari come massimo storico tra un po in teoria verranno abbassate le fees dunque transazioni più basse più economiche arriverà ethereum 2.0 e quindi ha davanti a sé un futuro molto rosio tra l'altro oltre a bitcoin è una delle poche cripto che le istituzioni amano e quindi investono sopra di lei e dunque è una scelta quasi scontata quindi un 200 euro assolutamente sulla cripto di vitalic butering sono da mettere per chi di voi è nuovo nella cripto sfera e non sa tanto bene come muoversi allora vi consigliamo un exchange probabilmente quello più affidabile secondo noi al momento è by nance tutta la vita ha tante opzioni abbastanza semplice mi piacerebbe consigliarvi anche ftx però per i nuovi arrivati c'è di meglio by nas appunto è un po meglio è un po più semplice lab da cellulare anche l'opzione di semplificazione del tutto quindi non troppa roba non troppo carne al fuoco forse è proprio meglio iniziare così pian piano non con troppa roba anche se se siete qui naturalmente vorrete fare già tutto subito partire in quinta invece no ragazzi con calma con calma con calma ogni progetto va studiato quindi anche i nostri consigli quelli che vi stiamo dando non finanziari assolutamente però andateveli a studiare questi progetti meglio riuscite a studiarveli sicuramente migliori risultati riuscirete ad ottenere e avrete anche una soddisfazione personale perché li avrete scoperti voi dunque continuiamo con il nostro portafogli magari alcuni di voi guardando questa schermata diranno che enrique completamente impazzito e invece no USDC un 10% quindi un 100 dollari su USDC assolutamente sì dunque un 10% però voi direte che ci faccio con un 10% lo metto dove lo metto ebbene ci sono degli exchange dove potete mettere a maturare questi USDC a fare interessi con tutta tranquillità in questo caso mi riferisco a exchange centralizzati quindi vi apparirà una scheda in alto a destra se volete approfondire l'argomento e non sapete dove mettere questi soldi comunque ci sono delle piattaforme in giro da parecchi anni che offrono appunto delle buone opportunità e sicuramente questi frutteranno più che tenerli lì in banca dove siete voi a dover spendere invece che guadagnarci qualcosa un altro consiglio di fatti ragazzi è quello di andarci piano con gli investimenti investite soltanto quello che potete permettervi di perdere dunque non andate all in nelle cripto anche se vostra moglie o vostro marito dicono che non dovreste spendere mai neanche un euro nelle cripto voi convincetelo del contrario però mi raccomando andateci coi piedi di piombo poi naturalmente ognuno ha le sue opinioni a riguardo tra l'altro vi invitiamo nei commenti a farci sapere le vostre per quanto mi riguarda ragazzi ve lo dico sinceramente importerei tutto il mio conto in banca in cripto ma come dicevo prima ho una moglie lei mi tiene un po' perché fosse per me i soldi cartacei non esisterebbero neanche dunque andiamo avanti perché siamo già arrivati al 50 per cento del nostro portafogli l'alto 10 per cento quindi 100 euro tutta la vita su chain link l'oracolo definitivo ragazzi quello che comunica con tantissime chain un progetto devastante che è praticamente in ogni progetto in giro fateci caso se andate su un sito dei progetti maggiori quelli più importanti quelli più seri molto probabilmente troverete il simbolo di chain link dunque partnership pazzesche un progetto che appunto vi abbiamo già spiegato in passato cosa sono gli oracoli anche in questo caso vi apparirà una scheda qui in alto a destra se volete approfondire questo aspetto della criptosfera dunque ragazzi vi consigliamo assolutamente un 10 per cento in chain link ed ecco qua che arriviamo dunque al 70 per cento del nostro portafogli con un alto 10 per cento su polkadot progetto sulla bocca di tutti che farà comunicare le varie blockchain una cosa della quale abbiamo assolutamente bisogno nella criptosfera polkadot è uno di quei progetti che prima o poi esploderà assolutamente da tenere d'occhio anche di lui abbiamo parlato parecchio in passato siete invitati assolutamente ad aggiornarvi se non siete ancora aggiornati riguardo a questo progetto oserei dire rivoluzionario e poi un altro 10 per cento così arriviamo al 90 per cento del nostro portafogli su terra luna spettacolare luna quest'anno ci ha dato tantissime soddisfazioni è una delle block chain che sicuramente mi attrae maggiormente oltre al guadagno meramente speculativo ha fatto delle performance pazzesche è un progetto che ancora poca carne al fuoco e sicuramente farà parlare di sé in futuro intrigante molto ma molto intrigante ha una community pazzesca dietro e questo come sapete come vi ripetiamo spesso è parecchio parecchio importante poi mi piace come community perché non è una community di esagitati e gente tranquilla e gente che studia approfondisce e dunque ha il nostro massimo rispetto come vedete qua sotto vuole portare la defy alle masse quindi un obiettivo parecchio ambizioso e speriamo proprio che il loro sogno si realizzi e ora arriviamo all'ultimo progetto perché così abbiamo completato il cento per cento del nostro portafogli da mille euro eccolo qua solana velocissimo spettacolare transazioni economiche dunque il top del top è vero ogni tanto si incarta almeno per adesso non è stabile come firium però sicuramente un progetto che ha detto la sua quest'anno tutti lo amano tutti lo vogliono è spettacolare ha fatto dei risultati pazzeschi sia a numeri quindi di valore aumentato di valore tantissimo e sta regalando soddisfazioni perché c'è un ecosistema pazzesco sotto che si è sviluppato su solana dunque un progetto molto ma molto intrigante e non poteva assolutamente mancare nel nostro portafogli anche di solana vi abbiamo parlato parecchie volte dunque andate assolutamente ad approfondire se non conoscete solana le tempistiche riguardo gli acquisti di queste criptovalute stanno a voi dovete studiarvele bene appunto torniamo al discorso di prima che bisogna studiare prima di investire questo il nostro portafogli se siete già navigati e siete in questo mondo da un po di tempo diteci come spendereste voi i primi 1000 euro in criptovalute tutte quelle che vi ho elencato le ho assolutamente nel mio wallet poi tra l'altro il prezzo potrebbe essere anche relativo per quanto riguarda alcune di queste criptovalute come detto bitcoin destinato alla luna ethereum sembra esserlo gli altri sono un po più scommesse tra virgolette però io mi ricordo ancora quando nel 2016 ho acquistato a 7 dollari ethereum guardate un po fin dove è arrivato bene mitici eroi siamo giunti alla fine per questo video è tutto un abbraccio da rick mi raccomando prendete ammazzate il bottone del like iscrivetevi al canale se non siete ancora dei nostri e accendete la campanellina per rimanere aggiornati date una spulciata ai link qua sotto nella descrizione perché potreste trovare cose molto ma molto interessanti unitevi ai social network twitter instagram eccetera anche quelli cripto social ragazzi non mi stancherò mai di dirvelo perché potreste soltanto rischiare di guadagnare qualcosa ci si rivede sempre qui su ardor cripto yeah grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti